Continuano ad aumentare i casi di contagio da West Nile nella nostra provincia. Nelle scorse ore si sono registrati quattro nuovi ricoveri. Si tratta di un 84enne arrivato in ospedale a Campo Stampiero con una forma lieve che porta solo febbre, non encefalite. Mentre a Piove di Sacco invece è stato ricoverato per encefalite da West Nile, un uomo di 77 anni. In totale quindi sono attualmente sei le persone ricoverate negli ospedali dell'Uslesa Iugane. A questi si aggiungono le due nuove positività rilevate dall'azienda ospedaliera. Una trentenne con encefalite lieve, già dimesso dopo un breve ricovero, e un ottantenne positivo al Toscana Virus che presenta un quadro clinico grave di encefalite. In totale al momento sono quattro i pazienti ricoverati in azienda ospedaliera a Padova. Ci sono stati poi due decessi registrati nelle scorse settimane, quattro persone invece completamente asintomatiche non ricoverate, la cui positività al virus è stata scoperta facendo degli esami del sangue. Il monitoraggio del Dipartimento di Prevenzione dell'Usle 6 segnala anche due casi di encefaliti da zecche e il caso del 77enne di Vo colpito da Toscana Virus dopo la puntura di un papataccio. Per limitare la diffusione delle zanzare, l'Usle Ugane ha inviato un documento a tutti i sindaci della provincia per invitare le amministrazioni ad emettere ordinanze ad hoc. A livello personale la gente deve proteggersi con repellenti, evitare i ristagni d'acqua e provvedere a trattamenti con passiglie larvicide nei tombini. I comuni e i consorsi di bonifica invece devono sfalciare e disinfestare tombini e caditoie e provvedere a trattamenti adulticidi nelle ore serali e prima di eventi come Sagre. Il comune di Padova si è già adeguato e ha pubblicato nelle scorse ore una nuova ordinanza, invitando i cittadini ad usare repellenti soprattutto nelle ore serali e chiedendo agli organizzatori di eventi privati come parrocchie e associazioni di rivolgersi al comune per le disinfestazioni.